Ciao ragazzi, aggiornamento dalla casa V. In presa edile ha terminato le rasature interne, quindi stiamo facendo un soprologo tecnico per la verifica. Venite a fare un giro con me che vi faccio vedere due cose. Ok, ci siamo. Non entro perché gli impiantisti hanno già provveduto a stendere le tubazioni per l'impianto di riscaldamento. E vi faccio vedere come sono stati rasati i controtelai. L'impresa ha rasato con le nostre specifiche, quindi i vani finestra sono pronti per ospitare il serramento, la danzariera dove è prevista e i relativi accessori. Passiamo dall'esterno, il cappotto è fatto solo da rasare ed imbiancare. Queste sono le predisposizioni dei sottobancali. Qui andrà montato il bancale in pietra. E nella zona notte andranno installati anche degli oscuramenti ad anta, quindi degli oscuroni in alluminio. Bene, per adesso è tutto. Ai prossimi aggiornamenti. Grazie. 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 Grazie.